cari amiche e cari amici circostilografico romano divertiamoci oggi insieme in questa prova di scrittura della twisby ecotì recentemente rilasciata dal produttore taiwanese in edizione speciale saffron ovvero zafferano la proveremo con un inchiostro della guitar il nostalgica nei una colorazione molto particolare che ben si addice alla tonalità di colore di questa penna la differenza dalla eco t rispetto alla versione eco normale si può ritrovare in due caratteristiche fondamentali il cappuccio ea sei facci nella versione eco normale e invece a tridente praticamente a tre facce principali sono sei in realtà ma sono tre piccole e tre grandi per la versione eco t la seconda differenza è nella impugnatura della sezione la versione eco t ha un grip che agevola la presa con il pollice e l'indice della mano perché ha un grip a sezione triangolare la versione invece eco normale eccola qua è cilindrica ecco ecco t allora togliamo la versione eco ecco glow che abbiamo visto anche in una video precedente e andiamo a vedere come si comporta a questa eco t in particolare questa monta il pennino in acciaio stub 1.1 sono disponibili ovviamente i soliti pennini extra fine fine medio e broad la carta che andiamo utilizzare è una carta dire quasi scolastica molto molto semplice questo è un blocco targato Aurora eccolo qua con grammatura di 60 grammi è una carta veramente molto economica quindi Twisby Eco T con un bel pennino Stub l'inchiostro è come abbiamo detto questo interessante guitar io amo gli inchiostri guitar li trovo veramente molto versatili si adattano a tantissimi pennini e tantissime penne differenti gradazione di pennini differenti allora abbiamo detto guitar nostalgic è uno stub interessante devo dire che non ha una grande variazione di tratto tra il tratto verticale e il tratto orizzontale questo ovviamente non garantisce la variazione di tratto tipica che si può ritrovare in un pennino italico maggiormente lavorato specialmente in un pennino italico di gradazione media se non addirittura broad ma sostanzialmente è un pennino molto piacevole che scorre in modo assolutamente fluido senza senza attrito di scrittura molto molto gradevole la scrittura andiamo a vedere che cosa si può fare con questo pennino Stub vabbè a parte il classico stampatello anche uno stampatello un po' più curato un po' più particolare facciamo qualche cosa qui che faccia vedere un po' le possibilità di questo pennino eccolo qua e devo dire stiamo lavorando su una carta veramente molto modesta poi lo proviamo anche con qualcosa di più divertente il combinato disposto tra pennino Stub e Nostagicanei devo dire restituisce una piacevole scrittura un po' per la fluidità di cui vi ho già parlato ma anche per lo Shin che questo inchiostro è in grado di restituire perché le ombre che vengono create durante il rilascio dell'inchiostro grazie alla superficie molto ampia del pennino sulla carta permette di ottenere delle sfumature di colore veramente molto gradevoli e questo si può ottenere ovviamente anche con altri colori ma il guitar è un inchiostro che spesso ci porta gradazioni di colore delle ombre quindi uno Shin molto molto marcato si comporta bene anche con il corsivo quindi stiamo facendo una bella dobbiamo fare qualche cosa di ampio prova di scrittura con tennino stav eccoci qua funziona molto bene anche in reverse sostanzialmente vedrete poca differenza tra il reverse e l'utilizzo normale io adesso rifaccio la stessa scritta subito sotto l'unica differenza è che qui viene leggermente più marcata la differenza di tratto tra il verticale e l'orizzontale ecco questo è l'orizzontale in reverse e questo è l'orizzontale in posizione corretta quindi scrivendo punto di scrittura per esempio la differenza dal tratto verticale e orizzontale aumenta e quindi viene più marcata l'accentuazione dei tratti verticali lo vedete per esempio nella parola scrittura eccolo qua andiamo a fare una piccola zoomata così si vede un po' la differenza eccoci inizio benissimo andiamo a fare i classici 8 vedete che la variazione non è particolarmente ampia tra questo tratto e questo tratto andiamo in reverse e diventerà più marcata e guardate è molto godibile anche il reverse questo penino si può utilizzare tranquillamente senza grossi problemi certo è un penino che dà il meglio di sé con scritte particolarmente ampie quindi facciamo uno stampatello ok anche per far vedere che cosa è in grado di fare questo inchiostro molto interessante il penino non ha mai incertezze non ci sono false partenze non ci sono problemi di salto di tratto il combinato disposto l'accoppiata tra questo inchiostro il guitar e la twistby a parte al di là della colorazione che sembra veramente proprio il suo in effetti un zafferano molto molto calzante in termini proprio di viscosità è perfetto consigliatissimo andiamo a provare su una carta rodia da 80 grammi non è una rodia particolarmente pregiata di quelle che si trova nei centri commerciali però insomma sostanzialmente si può fare molto più liscia twistby eco t anche su una carta che non offre particolare grip la penna si comporta perfettamente questo pennino stub non presta il fianco veramente a critiche se non per il fatto come vi ho detto che non è eccezionale la differenza dal tratto verticale a quello orizzontale è proprio insomma il classico stabbone senza che non che non che non crea problemi con un'angolazione errata di appoggio perché insomma perdona perdona anche inclinazioni leggermente sbagliate è chiaro poi che inclinandolo troppo la pena non scrive più ma non ha quell'impuntamento dovuto al grinding esagerato tipico degli italici soprattutto dei crisp italici per cui il penino scorre senza problemi in tutte le direzioni a proposito delle direzioni andiamo a vedere dal basso verso l'alto nessun problema dall'alto verso il basso nessun problema destra e sinistra nessun problema sinistra e destra nessun problema reverse alto basso verso l'alto destra verso sinistra sinistra verso destra insomma siamo tutti abituati ad acquistare le Twisby con i loro penini fine medio o extra fine addirittura ma il Twisby può essere una variante interessante perché no anche utilizzarlo per le firme firme particolarmente corpose velocità funziona molto bene eccolo qua andiamo a vedere un po' una zoom matina ecco scusate sto usando un treppiede particolarmente leggero quindi vibra leggermente purtroppo non sono riuscito a disaccoppiare i due strumenti quello di scrittura da quello di ripresa vedete che anche nelle firme si riesce a utilizzare a di là del colore comunque in forte velocità facciamo rivedere qua nessun salto di tratto funziona veramente molto bene quindi che cosa dire una prova molto rapida per una penna decisamente interessante grande capienza del serbatoio miglioramento oppure la praticità di utilizzo di questa penna rispetto alla eco normale al di là del cappuccio che è un po' un vezzo o comunque un elemento caratteristico direi che il grip che è nato il grip triangolare dell'eco T pensato proprio per facilitare normalmente chi ha le prime armi con l'utilizzo della stile grafica a me non crea problemi né vantaggi né svantaggi quindi è una questione molto soggettiva rispetto al grip classico cilindrico della dell'eco normale quello dell'eco T ricorda un po' le lami per cui per chi è abituato ad utilizzare le lami non troverà nessuna differenza con l'eco T personalmente non trovo veramente alcuna differenza di utilizzo tra una e l'altra consigliata la twist insomma sono dei carri armati funzionano sempre molto bene ormai tante sono state prodotte vendute e non mi sembra ci siano grandi lamentele per cui Twisby ecco T in versione saffron zafferano abbinata qui in questo caso con questo interessantissimo guitar in versione nostalgic anii l'abbiamo vista alla prova con alcuni tipi di carattere la penna non ha creato problemi scrive molto bene e l'abbinamento con questo nostalgic comporta anche alcune scine alcune ombreggiature alcune variazioni di colore dovute alla maggior saturazione di inchiostro durante la fase di rilascio sulla carta particolarmente interessanti per qualunque cosa siamo sempre disponibili a rispondere alle vostre domande grazie per la visione e a presto ciao grazie per la visione